Ciao mondo, oggi facciamo qualcosa di diverso, qualcosa di... diciamo serio? Ma sì, diciamo pure qualcosa di serio. La fuga dei cervelli è qualcosa di cui si parla da... beh, praticamente sempre per quel che ne ho memoria. I giovani italiani studiano, vanno all'estero, fanno carriera e non tornano. Ne parlano in lungo e in largo da decenni politici, giornalisti, professori, passanti occasionali, ma forse quelli che vengono sentiti, meno di tutti, sono proprio quelli che sono emigrati. Siccome ne conosco parecchi di ragazze e di ragazzi che hanno compiuto questa scelta, ho deciso di intervistarli, di porre loro qualche semplice domanda per cercare di dare uno sguardo a questo fenomeno dall'interno, per sentire un po' cosa ha da dire chi l'ha vissuto sulla sua pelle. I requisiti che hanno dovuto soddisfare gli intervistati per poter partecipare a questo video sono stati due. Primo, essere miei amici, persone con le quali tanto o poco, per molto o breve tempo, ho avuto a che fare. Secondo, avere avuto un'esperienza lavorativa all'estero per almeno un anno. Lavoro, non studio. Ho cercato persone che avessero avuto un'esperienza lavorativa, che fossero state in grado di percepire uno stipendio e mantenersi. Per capirci, l'Erasmus non vale. Il dottorato invece, con tutte le borse di studio annesse, vale. Siamo pronti per cominciare. Domanda numero uno. Chi sei? Andrea Bogni, detto Bongo. Sono Stefania Butera. Mi chiamo Luca Carettoni. Il mio nome è Fernando, per gli amici Fernando, in arte bucciarati. Il mio nome è Andrea. Per gli amici Andrea. Mi chiamo Carlo Contavalli, non ho né un nickname, né un soprannome. Ciao, sono Francesco De Gasperini. Renato Gallo, a.k.a. Savile Star. Mi chiamo Jacopo. Ciao a tutti, sono Giacomo Guarraci. Erina Meletti. Sono Lisa Pavarini e non ho altri soprannomi. Allora, il mio nome è Alessio e sono stato conosciuto nel tempo come abortigeno, frutti, Q9C, Q9P, anche faccina. Diciamo che sono un tipo poco identitario. Sono davanti alla Concert House di Berlino. Io sono Guido Serra, soprannominato gli amici Zef. Sono Gabriele Zanucchini, avete sei anni e vengo da Castelletto di Cina. Domanda numero due. Cosa sei? Sono un ingegnere informatico. Lavoro in Amazon, presso il quartiere generale europeo, ci trovo in Lussemburgo. Sono un technical program manager. Mi occupo di disegnare e guidare l'implementazione, dei processi di integrazione tra Amazon e le aziende che le portano i servizi logistiche. PhD student, quindi sono dottoranda, ricercatrice in università. In realtà ho consegnato oggi la mia tesi, quindi dal primo gennaio non lo sarò più. Ma in realtà ho già trovato lavoro, quindi sarò una consulente. Lavorerò per una società di consulenza privata, ma diciamo no profit, reinveste gli income in nuova ricerca, parzialmente funded dallo Stato. Privata, ma un po' particolare. Come suggerisce la maglietta, mi occupo di sicurezza informatica. Lavoro a Mountain View, California, per LinkedIn. E in pratica sono a capo di un team di ethical hackers. È un team di esperti di sicurezza e di ingegneri informatici che si occupano di trovare vulnerabilità nei sistemi in maniera da proteggere i membri del social network. Siamo... ah sì, lavoriamo ad Amsterdam, siamo ad Amsterdam. Come si può notare dopo. Cosa fai? Ah, cosa faccio? Faccio lo svincopatore. Anch'io. Operato il software. La catena di codaggio di Booking.com Ah, c'era un piccolo intermezzo spamma bestia. Se qualcuno avesse voglia di provare l'ebbrezza della vita in Olanda, ci faccia un fischio che noi incassiamo la mazzetta in caso di assunzione. Contattate la Dino. Saprà dirigere lì alla giusta persona. Sono un software ingegnere o ingegnere del software. Fondamentalmente un programmatore che passa le sue giornate davanti a un computer e interagire con i colleghi. Lavoro per un'azienda californiana che credo voi tutti conosciate. Si chiama Google. Sì, quella del motore di ricerca, quella degli occhiali, quella dei telefonini Android, quella delle auto che si guidano da sole. Come software ingegnere per Google lavoro in un gruppo che si occupa di componenti dell'infrastruttura, ovvero quei pezzi di software che servono a fare in modo che le vostre query, le vostre ricerche, i vostri pacchetti raggiungano i server di Google e che le nostre risposte vi tornino indietro e vengono visualizzate dal browser. Lavoro a Google dal 2006. Prima in Irlanda come site reliability engineer a Dublino, 4 anni. Dopodiché mi sono spostato in California nel 2010 nella casa madre a Mountain View. È stata una bella esperienza, la rifarei ogni giorno. Sono ricercatore all'Università di Hamburgo, studio astrofisica, principalmente mi interesso di osservare buchi neri supermassivi e classe di galassie utilizzando radiotelescopi. Poi ovviamente questa è la copertura perché il nostro lavoro, come tutti sanno, è quello di controllare elementi dell'umanità. Non devo dirlo questo. Questo non cancellalo. Ho cominciato come sistemista Linux una quindicina di anni fa. In Italia ho lavorato per quasi tutte le ditte di telecomunicazione. Due grosse banche, un centro di ricerca europeo, un internet provider ed un paio di ditte di servizi vari. Sono stato in Norvegia e in Inghilterra dove ho lavorato per una ditta di offerta a servizi. Un CED ed una firma di distribuzione energetica a re-inforto e crescita. Parlo tre lingue, italiano ed inglese senza problemi. Il mio norvegese è parecchio arruginito. Nel tempo libero mi occupo di progetti basati su arduino, banana pee e raspberry pee. Parecchie invenzioni nel cassetto ed un prototipo finalmente indirittura d'arrivo dopo anni di esperimenti vari. Sono fortemente interessato al progresso scientifico e tecnologico e di volo famelicamente tutti i post e gli articoli correlati che riesco a trovare. Il sogno nel cassetto è avere un laboratorio, dei fondi ed un gruppo in modo da poter condividere e sviluppare idee, non importa quanto strane. Vorrei ora dedicarmi in maniera più attiva allo sviluppo in PHP. e lavoro in effetti speciali, in effetti visuali, per cinema, pubblicità, video musicali, qualsiasi forma di audiovisivo. Questa è la mia attività principale e la svolgo un po' a Londra, un po' a Bruxelles, a Dublino. Mi è capitato di lavorare in varie parti, in varie città, perché lavoro a progetto, quindi o per un film o per una pubblicità e così via. E sostanzialmente cambio compagnie, cambio aziende abbastanza spesso e questo abbastanza nella norma, nel mondo degli effetti speciali. Parallelamente, negli ultimi due anni, sto iniziando un'attività di realizzazione video, quindi più o meno di filmmaking, e vediamo dove mi porterà questa strada. Spero di riuscire a realizzare qualcosa nell'ambito, negli audiovisivi, quindi anche realizzarlo e non solo post-produrlo, non solo fare gli effetti speciali a prodotti realizzati da altri. Di formazione sono orfo. Ho iniziato, quando avevo 14 anni, in bottega con il maestro, un po' come si faceva nel rinascimento, ecco. Dopodiché ho iniziato per passione la sera ad aiutare un amico, che in questo momento è il mio socio. Lui aveva aperto un piccolo negozio di acquari, io appassionato di questo, e abbiamo iniziato a collaborare. Le cose andando avanti si sono sempre, sono sembrate, diciamo, in divenire, sviluppandosi sempre al meglio. Dopodiché, a me comunque, un po' avevo il paesino, un po' a tutto quello che ruotava intorno, iniziava ad andarmi stretto. Avevo bisogno di uscire, avevo bisogno di fare quelle esperienze che altrimenti non sarei riuscito a fare. Mi sono detto, ascolta, o adesso, francamente, mai più. E così ho preso, e da lì la decisione di partire per la grande città. Sono una dottoranda all'Università di Lausanna. Il nome del mio dottorato è Doctoral School in Cancer and Immunology. Studio, e questa è la centrifuga che ha smesso di lavorare, comunque io studio il ruolo di una proteina nel stabilire e nel risorgere del cancro alla pelle, dello squamous e del carcinoma della pelle. Quindi, gli stadi iniziali, vedere come questa proteina viene regolata dai fattori che fanno sì che venga il cancro alla pelle, per esempio la luce del sole e altre cose. Sto scrivendo la tesi di dottorato e dovrei dottorare tra sei mesi, se tutto va bene. E poi dovrò cercare un lavoro, penso che continuo a cercarlo qui in Svizzera. Ho vari lavori diversi, sono laureata in lingua e letteratura straniera e ho tradotto, ho fatto un po' di traduzioni, ho tradotto un libro e come lavoro però insegno l'italiano a studenti stranieri, ad adulti e lo faccio con un piccolo business per conto mio, ho cominciato con un'altra ragazza e poi faccio altri lavoretti, tipo barista e... e sì, ultimamente ho lavorato per il Convention Center di Bristol, come barista camettiera e... di tutto però su... a livello comunque di Convention Center. Sono un tecnico informatico, anche se in realtà sono uno smanettone perché tutto quello che so me lo sono autoinsegnato nel tempo provandolo sul campo. E... si può anche definirmi un power user, cioè quello che chiamano gli inglesi un utente potente di sistemi GNU Linux e anche di sistemi Windows ma cerco di evitare dove, quando possibile. Ufficialmente sono un Service Reliability Engineer, cioè sono un sistemista che si occupa di tenere in piedi una grossa infrastruttura informatica in particolare in questo caso io lavoro per PlayStation e lavoro per il servizio PlayStation Now che in questo momento è live, è utilizzabile, fruibile in Nord America e in Canada è un servizio che permette di giocare, hai giochi a PlayStation senza avere una PlayStation cioè uno praticamente sceglie il gioco, viene direttamente trasmesso sul computer di casa o sul televisore di casa e può tranquillamente giocare arriverà anche in Europa, non posso dire altro. Cosa ho fatto in questi anni? In questi anni ho lavorato anche per Vodafone, Vodafone Group, il capo gruppo ho lavorato per Nokia Mappe, attualmente conosciuta come here.com ho lavorato per un servizio di cloud computing per cui è un'azienda del gruppo 929 Internet Internet il più grosso internet provider europeo ho lavorato per Texter, una società di ebook collegata alla 3M per la possibilità di affittare libri nelle biblioteche poi ho lavorato per Rocket Internet come risolvi problematiche principali insomma è stato divertente, ho fatto diverse esperienze fino a finire in Sony PlayStation facendomi tre mesi di formazione in America e qua sono. Lavoro nell'aeronautica a Civile faccio sia il pilota di elicotteri che lo specialista sempre sulle banche Domanda numero 3 Come ci siamo conosciuti? Ci siamo conosciuti all'università abbiamo frequentato alcuni corsi insieme eravamo uno degli stessi gruppi di studio e abbiamo alcuni ricordi condivisi riguardo a feste di agraria e altre attività extracurricolari Servo pochi ricordi di quelle feste e molto confusi Amici comuni Politecnico lunghi anni di pendolarismo treni insieme studiavo con suo fratello Pensa, tu studiavi con mio fratello e io studiavo con tuo fratello Politecnico di Milano Linux Bar insomma un gruppo di nerd che si trovava a studiare insieme e facciamo i primi passi sui sistemi Linux e direi che insieme abbiamo imparato le prime cose di computer vere Aladino, siamo amici da tanto ci siamo conosciuti a Lug, a Linux Day credo immagino da parecchio tempo ci conosciamo tutti per lo stesso motivo tutti per il Lug di Valese tutti da tantissimi anni tipo 15-16 anni tipo imbarazzante Linux Day 2002 quando Buccia si presentò alla mattina col suo computer fisso che mettemmo a masterizzare ISO per tutto il giorno e l'anno successivo memory di ciò sviluppò il software della Burning Station che ho controllato sta ancora su SourceForge dai, tra due anni ci vediamo un anno io Aladino l'ho visto qua ci vediamo in Germania adesso no, davvero siamo andati assieme al campo adesso rompiamo un altro campo adesso rompiamo un altro campo quest'anno bellissimo video video che riprende tutto se mi ricordo bene ci siamo conosciuti nel 2002-2003 presso il gruppo utenti Linux di Varese passione in comune amici in comune credo che a me ci abbia introdotto Dega Francesco che probabilmente sta girando anche lui questo video dopodichè eravamo entrambi studenti del Politecnico ci siamo visti qualche volta a lezione ci siamo visti qualche volta a pranzo in università e mi ha presentato quella che attualmente mia moglie Francesca attualmente e spero ancora per un bel po' sinceramente non mi ricordo assolutamente come ci siamo conosciuti molto probabilmente eravamo tutti e due ubriachi da qualche parte o forse ci siamo semplicemente conosciuti mettendo insieme Linux User Group di Varese questa è un'altra possibilità tramite letali caraffe di Dinello Sincero al circolino di Lentate ecco come ci siamo conosciuti con la mia frequentazione di IRC dei tempi meeting, feste dei Lug, app meeting vari eravamo destinati fino a poi a incappare l'uno nell'altro la prima volta che ci siamo visti è stato a Varese ad una serata di presentazione dell'IFO il laboratorio informatico free ed open se ricordo bene in quell'occasione c'era anche Luca che presentava il progetto Robocode che poi quell'anno abbiamo portato a Linux Day e hai concluso la serata ricompilando il kernel a Fra che per chi non avesse dimestichezza col computer e con Linux non si tratta di nulla di sconveniente tutto a posto, tutto tranquillo un aladino capitò che ci conoscemmo un poco per caso attraverso un amico di un amico di un amico quando avevo 18 anni credo andai come giudice al Giffonifil Festival che è un festival orientato a targhe giovane e lì conobbi Valerio e Francesco e due ragazzi che erano giudici pure loro e entrambi di Sesto Calende, vicino Varese e loro mi invitarono ad andargli a trovare subito dopo il festival e così in quell'occasione conobbi anche Aladino che è di quella zona lì più o meno e amico loro di infanzia quindi si continuò l'amicizia un po' con tutti e con Aladino poi facciamo anche qualche viaggio assieme e lui mi venne a trovare a Londra e insomma così eramo nello stesso paese poi vabbè ovviamente tutte e due con l'idea di conquistare il pianeta piano piano io ancora ci credo sì, spero, prima o poi noi ci siamo conosciuti giocando di ruolo dal vivo o a una festa o comunque tendenzialmente con una birra in mano mi sto rendendo conto che non sta venendo fuori proprio la bella immagine di me che speravo ad essere i miei amici non capisco proprio perché penso di averti conosciuto attraverso tuo fratello che era in classe con me al liceo e beh noi ci siamo conosciuti al Linux Var il Linux user group di Varese quasi dieci anni fa probabilmente molto molto tempo fa quando la sede era ancora a sesto calende sul lago se non hai risposto perché non te lo ricordi noi ci siamo conosciuti nel 2008 quando siamo andati a Bruxelles al Fosdem assieme ad Andrea e Buccia e una volta su abbiamo incontrato anche Carlo e Abo e non racconteremo come si è conclusa la serata con le ragazze spagnole no allora ci siamo conosciuti ormai penso 8 anni fa tra gruppi di amici ci siamo conosciuti con suo fratello poi ci siamo conosciuti noi domanda numero 4 come sei finito all'estero? sono all'estero dal 2012 ci sono finito grazie a mia moglie in quel momento lei trovò un'ottima opportunità di carriera in Lussemburgo e io ho deciso di muovermi immediatamente con lei quindi abbandonai il mio precedente posto di lavoro lavoravo in Capgemi in un'azienda di consulenza e arrivato in Lussemburgo dopo circa due o tre mesi di ricerche mi trovai con diverse opportunità tra le quali scelsi quella di Amazon la proposta di Amazon in realtà è perché mio fratello più grande aveva fatto l'Erasmus probabilmente se lui non l'avesse fatto io non ci avrei pensato beh ho fatto l'Erasmus qui in Danimarca, Copenaghen mi è piaciuto, sono tornata per fare la tesi mi è piaciuto ancora di più mi hanno offerto un dottorato, ho accettato e sono finita qua ah sì nel frattempo sono anche tornata in Italia per finire la specialistica eccetera ormai sono circa otto anni che sono fuori dall'Italia appena dopo la laurea specialistica ho lavorato per qualche anno in Italia ma il numero di aziende in Italia che si occupa di sicurezza informatica a livello tecnico, a livello fortemente tecnico sono poco, sono probabilmente tre avendo lavorato per una ho deciso che insomma volevo provare qualcosa di diverso quindi l'esperienza all'estero sembrava il passo successivo per una serie di faccende sono finito in Polonia, Varsavia ho lavorato per The Royal Back of Scotland per tre anni sempre da Varsavia facendo in pratica le prime esperienze di lavoro all'estero e dopodichè insieme a mia moglie abbiamo deciso di fare un'altra esperienza e siamo finiti con Silicon Valley e qui in Silicon Valley ho lavorato prima appunto di consulente dopodichè come director of information security per una start-up bellissima esperienza in cui ho visto la crescita di una start-up della Silicon Valley da 20 dipendenti a circa 200 e da qualche mese ho deciso di fare questa nuova esperienza LinkedIn in cui in pratica è un'esperienza a scale dove i problemi ovviamente di sicurezza sono legati alle forti dimensioni e alle forti dimensioni di crescita del social network sono finito all'estero per coincidenza, per sbaglio ho messo il CV online una sera lo ricordo ancora avevo appena buttato le tasse all'università dicendo vaffanculo è vero, è vero, è vero ho le tasse all'università da pagare grazie e ho detto vaffanculo ho messo il CV online è successo che sono stato contattato ho cominciato a fare interviste sono venuto da Amsterdam a fare l'interview e hanno fatto hanno fatto l'errore di è stato sei anni fa quindi sono sei anni che sei anni in catena di montaggio sei anni in catena di cotaggio però la tastiera è abbastanza abbastanza consunta dal tempo ma no io invece la prima esperienza all'estero è stata nel 2009 sono andato in Germania per fare la tesi di laurea ho provato a fare l'Erasmus ma eravamo in troppi a competere e non ce l'ho fatta e quindi ho detto o riesco a fare la tesi all'estero oppure non mi laureerò mai e alla fine sono rimasto in Germania 9 mesi poi sono tornato in Italia per 3 anni e poi ho deciso di provare anche di entrare in catena di cotaggio e ha funzionato nel 2006 sono andato al FOSDEM al free and open source developers meeting conferenza di Bruxelles per sviluppatori di software libero lì ho incontrato dei ragazzi che lavoravano per Google ci sono scambiati estratto di mano, biglietto da visita dopo qualche settimana mi ha contattato un recruiter ho fatto i colloqui telefonici, i colloqui di persona dopo di che mi hanno fatto un'offerta per lavorare rubino in Irlanda è una storia un po' buffa perché all'epoca non avevo in mente di andare a lavorare all'estero non mi sarei aspettato di finire a lavorare per Google non credevo avrei passato i colloqui non credevo che sarei rimasto a Google per più di 6 mesi quando sono partito dall'Italia avevo intenzione di fare un'esperienza all'estero di 6 mesi, un anno al massimo dopo di che di tornare in Italia tornare a lavorare in Italia è capitato a pennello però perché all'epoca ero stanco del lavoro che facevo ogni cosa che facevo mi sembrava di andare controcorrente portare i progetti a termine era difficile riuscire ad ottenere i risultati era difficile e nulla, per cui ho ricevuto un'offerta era buona dal punto di vista economico era interessante dal punto di vista tecnico e ho deciso di provarci ed eccomi qua! Dunque, sono finito all'estero per fare il mio dottorato ero a Monaco ho fatto lì 3 anni al Max Planck Institute Process to Physics e poi mi sono trasferito qua ad Hamburgo dove continuo a fare la mia vita da ricercatore emigranto e la prossima tappa sarà o in Olanda o in America adesso vediamo cosa salterà fuori però vedo difficile il ritorno in Italia a breve sono finito all'estero perché volevo cercare di trovare un'opportunità che mi permettesse sia di sopravvivere sia di avere magari una casa mia sia di avere un laboratorio dove poter fare i miei esperimenti e curare le mie invenzioni cose basate su Bananapii, Bananapro, Raspberry Pi, Arduino e quant'altro la prima esperienza è stata in Norvegia ho lavorato prima in Ergo Group e poi in Olandite in Ergo Group avevamo sia un CED che un ufficio accanto da curare in ufficio accanto curavamo più che altro installazioni di sistemi su server DMEWare e nel CED curavamo più che altro tutto quanto riguardava l'hardware nuove ProLiant Blades da installare riparazione ai guasti ai server networking e quant'altro in Olandite facevamo assistenza giravamo proprio con la macchinina in due e curavamo clienti che andavano dal privato la signora che ha problemi con il computer alla ditta per esempio ha fatto ha realizzato la rete wifi di una ditta di produzione cimenti e roba per l'edilizia assieme ad altri colleghi in Inghilterra sono stato in Fast Utility nel gruppo di Operation stavamo con le facce incollate al monitor di Nalios curando tutti quelli che potevano essere i fault dei vari server carico spazio su disco etc 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 consiglio tutte le persone intenzionate a fare un'esperienza all'estero di prendere nota di queste tre ditte perchè mi sono trovato bene mi sono trovato bene sia per quanto riguarda l'ambiente di lavoro sia per quanto riguarda l'ambiente al di fuori del lavoro personalmente non ho incontrato diciamo pregiudizi né razzismo né nulla di nulla di negativo anzi sono tornato in Italia perchè le esperienze si sono concluse e non mi sono trovato ad avere abbastanza per poter rimanere e poter cercare altre cose per quanto riguarda l'Inghilterra e per quanto riguarda la Norvegia tornai perchè la relazione che stavo portando avanti si concluse quindi gli amici che conoscevo lì erano gli amici suoi e potete ben immaginare e non fosse la migliore situazione all'estero ci sono finito per il classico Erasmus con il quale iniziano tutti quella volta andai Erasmus a Barcellona come molti mi piace così tanto che l'anno dopo decisi di tornare con Leonardo in un progetto per lavorare all'estero in un'azienda e mi piace così tanto che dopo questi sei mesi di lavoro all'estero sempre a Barcellona peraltro mi piace così tanto la Spagna che decisi di fare la specializzazione dell'università e in quel caso andai a Madrid dove rimasi per tre anni a Madrid lì feci questa specializzazione e contemporaneamente lavoravo come freelancer come a progetti sempre e da lì capii che che il mio destino tra virgolette era Londra perché Londra è un po' il nucleo il centro degli effetti speciali in Europa e quindi mi trasferii a Londra dove inizialmente lavorai in un'azienda che faceva principalmente pubblicità nella quale ebbi un periodo molto bello i primi sei sette mesi a Londra furono per me molto belli molto allegri facili dopo cambiare di azienda lavorai a un film della Disney a John Carter tremendo e sia dal punto di vista lavorativo che dal punto di vista della città non mi trovai più tanto bene quindi dopo quattordici mesi chiusi l'esperienza a Londra e mi trasferii in Belgio a Bruxelles dove avevo ricevuto un'offerta di lavoro e le cose lì cambieranno molto ritornai un po' nella vecchia Europa e scopri che i belgi sono gente molto ospitale molto socievole la città offriva un buon stile di vita e lì mi fermai per otto mesi dopodichè feci un viaggio in America Latina e viaggio un po' lunghetto a mio ritorno decisi di di ritornare in Belgio era un po' la soluzione più facile e volevo anche chiedermi le idee su cosa fare e ci rimasi altri sei mesi e lavorai ad altri progetti molto interessanti in aziende diverse e lavorai a vari videoclip musicali ad altre pubblicità e poi verso la fine dell'anno scorso lavorai a Dublino dove si fece una una serie televisiva Ripper Street la terza stagione e beh adesso ho l'intenzione di andare in Australia anzi andrò in Australia a fine mese fine febbraio inizio marzo ecco e la si vedrà si vedrà se se riuscirò a trovare lavoro sempre nel mio campo o all'inizio dovrò adottarmi a qualche altra situazione non lo so vedremo spero che questo Aladino lo metta così mi fa un po' di pubblicità quando feci il viaggio in America Latina decisi invece che arrivare là in aero di attraversare l'Atlantico in barca a vela e quello che feci fu andare nella marina e nei porti di barca da di porto e contattare i marinai parlare con loro direttamente e dirgli quello che volevo fare se avevano bisogno di una mano o di un aiuto a bordo e offrendomi come volontario per aiutarli in attraversata perciò questo peraltro è una pratica abbastanza comune assieme a me c'erano tanti altri giovani anche molto più giovani qualcuno anche più anzianotto di me e praticamente credo che troviamo tutti in barco e e si fece questa attraversata ovviamente non tutti assieme ognuno per conto suo ognuno con la sua barca e nel mio caso arrivamo alle isole di Capoverde e dopo da lì in Brasile a Recife e da questa esperienza nacque la mia voglia di fare di realizzare video perché come primo video realizzai un video sulla navigazione su quello che è un po' il mio stata la mia esperienza e ora il mio concetto di navigazione e questo video si chiama Sailing Film lo potete trovare su sailingfilm.com è un sito web che ho creato e una delle attività che che faccio adesso è quella di creare video per marinai per gente che ha voglia di di registrare in immagini la loro esperienza che sia di traversata oceanica che sia di di settimana di charter di settimana fuori porta in barca a vela e quindi questo è il servizio che ho semplice voglia di evadere forse voglia di andare via qualcosa di fresco qualcosa di nuovo e allora metti insieme le cose nel giro di un'estate forse no nel giro di un mese un mese e mezzo ho preso la decisione alla fine delle vacanze estive parlo con un'amica che aveva avuto l'opportunità di andare a fare uno stage a Parigi e e lei non ci voleva andare non mi è mai troppo andata giù a Parigi e allora io brillante dissi beh allora se vai a Parigi vengo anch'io e niente poi dopo la l'hanno presa io ormai l'avevo detto e va bene ti sicuro anzi meglio questa è stata veramente la spinta ormai c'ero dentro quindi forte di questa cosa il mio maestro andava in pensione e a quel punto gli dissi guarda io invece vado all'estero vado a Parigi mollo tutto inizialmente doveva essere un periodo sabbatico il mio poi chiaro dopo quattro mesi che sei su in una delle città più care al mondo ecco e un po' per noia un po' per bisogno di andare a lavorare capisci che sarà anche ora quindi dopo quattro mesi decisi di andare a cercare lavoro e forte dei miei dodici anni di mestiere come orafo dissi va bene andrò a fare l'orafo neanche il tempo di arrivare nella questa via vicino casa dove c'erano le gioiellerie incontro quello che nel giro di cinque minuti riesce a offrirmi un lavoro e diventa poi effettivamente il mio il mio titolare per tre anni e mezzo in una gastronomia italiana e che è la cosa che è una cosa che non avevo mai pensato tra l'altro lui stesso mi dice napoletano mi dice ma hai mai pensato a una gastronomia napoletana una gastronomia italiana e io guardo e franco dico guarda francamente nella vita no e invece tu vedi il destino ti ritrovi a fare qualcosa che effettivamente mi piaceva tantissimo a me piace sono un appassionato di gastronomia di cultura italiana e quant'altro e questo mi ha dato modo di spiegare i francesi e notare una cosa una cosa molto importante io sono partito con che tutti mi dicevano ah cazzo vai a Parigi i francesi detestano gli italiani e invece poi ti accorgi che quelli con i pregiudizi siamo noi che pensiamo che i francesi abbiano dei pregiudizi sui italiani non è assolutamente così perché non è assolutamente non odiano assolutamente gli italiani anzi ti accorgi e questo non può dire comunque qualsiasi italiano che è stato in Francia di quanto facciano i salti mortali per dire ah sei italiano wow è anche il cugino del vicino di casa di mio zio italiano chi se ne frega però hanno questa questa necessità invece trovano stimano molto l'Italia e quindi questo è un punto a tuo favore e la fortuna di lavorare nella gastronomia o comunque nel food qual è? se hai un capo italiano ti gestisci si smazzi le rotture di palle lavorative con lui nella tua lingua ed è un bene mentre dall'altro lato sei obbligato a parlare francese o comunque in un'altra lingua con la clientela e questa è la cosa straordinaria nel giro di quattro mesi arrivi veramente a già padroneggiare la lingua soprattutto un mestiere come il mio io ero venditore ci arrivi ci arrivi bene e rapidamente e questo veramente mi sta aiutando soprattutto adesso in questo momento vi parlo da questo in questo albergo di Ancona orrendamente arredato direi proprio perché mi occupo tra i miei lavori di gestire la vendita in Francia di un'azienda qua un'azienda italiana appunto la distribuzione francese la faccio io e quindi ogni tanto passo e vengo qua da loro l'ultimo anno prima di prendere la decisione di tornarmene in Italia non è stato il massimo diciamo mi sono trovato a non andare più d'accordo con i miei indatori di lavoro a prendere la decisione di volermene andare da dove lavoravo perché ho detto se riescono a farlo loro questo mestiere nel frattempo ho avuto modo di diciamo di entrare nel mestiere sempre di più ho preso la decisione di aprire una gastronomia per i fatti miei avevo creato un bel concept e quant'altro c'è di buono che il sistema francese ti aiuta sotto questo aspetto quando tu hai un progetto quando tu hai un'idea ti vengono incontro se tu vuoi crearti un posto di lavoro ma soprattutto creare lavoro sicuramente per altri hai l'opportunità di farlo così è stato mi hanno mandato a scuola quindi ho studiato marketing gestione di impresa e quello che ho fatto dopo di che tutto sembrava andasse al meglio i fornitori avevo già tanto tanto non dico tutto però tanto dopo di che tutto però si è schiantato un po' come Titanic sull'iceberg contro la burocrazia la burocrazia francese è una macchina un ingranaggio molto molto complesso in confronto con l'italiana è niente dopo quattro anni e mezzo Davide mi propone di tornare dovuto anche un fatto in un momento mio di crisi perché avevo ormai raggiunto gli obiettivi che mi ero prefissato e quindi dice adesso ci sono i presupposti per fare qualcosa in due e farla veramente bene e così nasce il progetto Gaia Italia che diciamo è una un'azienda che si occupa della produzione di acquari ma con diciamo dietro una filosofia particolare che stiamo che stiamo portando avanti negli anni molti ci conoscono ed è stata coronata da appunto questa produzione specifica di alta gamma di acquari artigianali 100% made in Italy questa è la cosa che più mi rende orgoglioso all'estero ci sono finita mandando un sacco di curriculum me l'hanno presa qui in Svizzera e in Spagna quando c'è stato da scegliere che ho scelto di venire in Svizzera perché più comodo come vicinanza e paga decisamente di più rispetto alla Spagna è stato molto non è stato difficile è stato abbastanza semplice l'importante è mandare un curriculum e trovare qualcuno che che ti supporti che ti voglia nel suo laboratorio almeno per quello che riguarda il mio campo quindi mi trovo a Brisbane che è la capitale del Queensland nel nord dell'Australia sulla costa est quindi sul Pacifico e sono quattro anni ad aprile saranno quattro anni che sono a Brisbane e non è per ora prima esperienza all'estero che ho fatto perché già all'università avevo fatto l'erasmus in Inghilterra ed ero andata a fare uno stage non pagato per tre mesi a Perth che è dalla parte opposta dell'Australia e dopo l'università ho fatto domanda per fare un altro stage a Brisbane ed è così che sono finita in Australia da lì ho cominciato a insegnare italiano ho incontrato mio marito e sono rimasta a Brisbane sono finito all'estero perché qui non trovavo sbocchi e avevo subito sulla mia pelle pregiudizi e molto bollismo a scuola e più che altro per i pregiudizi quindi ai tempi pensai che il posto migliore dove andare era l'Olanda e i maliziosi penseranno subito male perché chi va in Olanda per i pregiudizi va per due motivi ma questo lo lascio a voi decidere e quando sono finito all'estero ho trovato un gruppo di persone già facenti parte di un progetto open source ben avviato che per motivi politici credero subito al mio talento e mi misero subito sul campo a fare installazioni a seguire gente per aiutarli con i pochi progetti in ambito open source e da lì è stato come l'effetto palla di neve una cosa dietro l'altra e devo infatti ringraziare queste persone quali Giaro Mildi di Neorg e altri che non ho meno ora ma sapete tutti chi siete che nel tempo hanno creduto in me e mi hanno dato tante possibilità per crescere e accrescermi sia culturalmente che specialmente eticamente che è a livello di persona Era il 2008 maggio 2008 gli italiani avevano rivotato sappiamo chi ho detto vabbè è il caso di mollare le tolle soprattutto vedendo che un grosso cliente che doveva pagarmi una fattura invece che a tre mesi voleva pagarmela sei ho detto ok contratto a tempo determinato me ne scordo la partita IVA è l'unica soluzione ma anche qua anche la partita IVA sta saltando vado a una conferenza a febbraio poco prima a Bruxelles invitato da un amico tra l'altro Carlo che saluto Carlo Pontavalli che è un amico comune con Aladino che mi fa vieni 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 a febbraio trovarci e da lì è stato fuori un vecchio contatto mi fa vieni a Londra e da Londra mi sono finito a Dusseldorf e da lì è cominciata la mia avventura all'estero ma allora sono finito all'estero tramite online cercavo occupazione di lavoro perché qua in Italia ormai avevo finito ho fatto un periodo di lavoro qua in Italia un paio d'anni e poi sono partito tra l'Australia visto che cercavano piloti ho detto proviamo ho fatto la lavoro da solo ho fatto sei mesi in una casa con due australiani una nezzelandese e una indiana tra l'altro è stata la mia migliore amica e da lì sono partito ho detto cosa facciamo mi sono messo a fare le conversioni per la mia licenza ho iniziato a lavorare lì facendo il trasporto passeggeri attorno alla città ero a Per quindi nello sud ovest dell'Australia poi ho viaggiato anche in Australia ho fatto Cairns ho fatto Adelaide non sono messo né a Sydney né a Melbourne stranamente però sì ho girato quasi tutta l'Australia e niente facevo il piloti per i voli turistici e in più facevo anche altri lavoretti per arrotondare la paga ho fatto dal giostraio al pizzaiolo al cameriere al fattorino tutto e niente poi sono tornato perché ho messo tutto il visto e avevano tolto poi i piloti della lista famosa dell'Australia quindi sono tornato con l'Italia e sto studiando ancora per poi muovere e ripartire domanda numero 5 cosa ti manca quando sei all'estero per tanto tempo? quando sono all'estero per tanto tempo mi manca mia sorella mi mancano i miei amici e i laghi e le montagne bellissime della mia zona io vengo dal nord di Milano e come tutti gli italiani credo mi manca il buon cibo e in modo particolare gli ottimi ingredienti che ti possono trovare nel mercato all'anderti il sole qui il sole non è non è mica tanto vabbè cibo cibo italiano anche la natura qui è un po' tutto piatto quindi montagne colline boschi insomma quello sì vabbè poi il lago chiaro ma direi le persone le persone gli amici la famiglia soprattutto nel mio caso essendo mi spostato un paio di volte è difficile avere dei legami legami molto forti ho un sacco di conoscenti di amici ma di amici veri stretti di persone cui voglio bene in cui ci sentiamo quotidianamente ogni settimana purtroppo ce ne sono poche mi manca un po' la genuità delle persone ovviamente quando quando non conoscivi bene le persone è difficile entrare in una relazione che è che è genuina e quindi mi manca questo mi manca la possibilità di passare una serata con degli amici e potermi sfogare ma la vedo un po' come insomma il prezzo da pagare per avere la possibilità di fare un altro tipo di esperienza il cibo si mi manca ma direi che ce la capiamo abbastanza bene cucinandocelo soprattutto qua a San Francisco ci sono dei ristoranti italiani decenti chiaro non paragonabile al piatto di pasta della mamma però insomma non ci si lamenta il bidet è un problema un solo problema il bidet manca il bidet manca personalmente ci si arrangia eh però manca è una vita dura senza bidet ma si può fare è garantito cosa mi manca? i miei conculini prendono in giro perché ho uno scaffale pieno di pasta credo che possa essere ho visto lo scaffale pieno di pasta è veramente pieno di pasta c'è veramente tanto un'altra cosa che manca è la natura io avevo una commute da Varese a Milano e la natura delle stai scherzando? no no c'è un punto sulla tratta da Varese a Milano a tradate penso che abbastanza aperto sia del Monte Rosa dalla distanza e la mattina la commute con il Monte Rosa era spesso abbastanza aperto wow devo ammettere che la natura di Milano non mi manca la natura di Milano ci sono solo i Polling non ci stiamo simpatici una cosa che mi manca è poter trovare cibo ottimo in qualsiasi supermercato inoltre hai fatto un ottimo pasta al polvo pasta al polvo? si carbonara una carbonara dai con gli ingredienti portati illegalmente ci dobbiamo portare gli ingredienti da casa però fai funzione non si fa si trova anche la Roma se c'è anche il muore la carbonara non muore ma la carbonara non muore beh gli amici sicuramente la famiglia il sole il caldo il caffè no quello non mi manca non bevo caffè il vino neppure la pasta no la barilla si trova dappertutto ormai mi mancano alcuni prodotti tipici mi manca il salame felino mi manca il lardo di colonnata mi mancano il buon prosciutto soprattutto mi manca il bidet mi dispiace ma al di fuori dell'italia è veramente difficile trovare qualsiasi posto col bidet quando sono in italia mi mancano delle lunghe chiacchierate parlando di politica religione filosofia e quelle cose che si fanno solamente quando sei tra connazionali e essenzialmente quando sei sbronzo qua all'estero è un po' più complicato entrare in certi tipi di sintonia e si finisce a parlare sempre un po' di più del meno e ovviamente mi mancano un po' tutti i miei amici questo penso sia normale dell'italia mi è mancato il mio cane che purtroppo nessuna delle due esperienze ho potuto portare con me anche perché comunque in tutte e due le esperienze si partiva un po' nell'incertezza con il mio e ho dovuto lasciarlo dai miei tutte e due le volte questo mi ha diciamo che non mi è piaciuto molto doverlo fare e poi scherzando sicuramente alcuni piatti come la pizza ad esempio vanno un po' difficili a trovare fatti bene all'estero a me sempre manca qualcosa e sia l'italia che l'estero mi offre qualcosa che che gli altri non hanno e immagino che quando stia all'estero mi manchi tutta la parte di di legami familiari di amici che sono qui e il cibo italiano come immagino che diranno tutti e quello che mi manca forse è una rete di di amici gli amici si creano e si conosce sempre gente nuova questa è la parte interessante però quello che forse manca sono le le radici quello le radici che ti legano a un certo posto e ti fanno appartenere a questo posto e per contro c'è una situazione lavorativa almeno nel mio campo decisamente favorevole ma non solo nel mio campo a quanto si sta vedendo e quindi questo determina spesso delle condizioni di vita migliori ecco quello che mi manca il sole perché normalmente il mio lavoro almeno in Europa si svolge al nord quindi il fattore climatico è decisamente sfavorevole rispetto all'Italia anche rispetto al nord Italia di dove io sono e e poi in particolare rispetto al sud Italia dove che visito abbastanza regolarmente ma dipende io nella mia esperienza chiaro io non ho girato tantissimo quello forse un po' il problema è che quando sei a Parigi è come se tu fossi comunque in una specie di isola intorno a Parigi non c'è una mazza ecco diciamo e quindi quello che ti manca forse è di prendere la macchina o la moto e andarti a fare un giretto a un'ora di distanza andare in montagna è una cosa che ti manca tantissimo considera che da Parigi le montagne sono tipo 5 ore di treno è un po' difficile ecco prendere e dire vado a farmi il weekend o vado a farmi la giornata parto la mattina presto scio non faccio neanche il giornaliero faccio il pomeriggiano poi torno a casa fermo a fare l'aperitivo in piazza e vado a lavarmi diventa un po' difficile ecco questa forse è la cosa che più mi mancava non ti dirò il cibo lavorando in una gastronomia italiana considera che il primo anno sono ingrassato di 10 kg se ne accorse anche mia nonna e quando la nonna si accorge che sei ingrassato e te lo dice ti dice ma ti trovo un po' ingrassato e allora lì è grande e per fortuna poi ho recuperato comprandomi una bicicletta a scatto fisso che a Parigi è il top pericolosissimo vivere in bicicletta a Parigi e però appunto tante cose che ti mancano ma soprattutto ovviamente gli amici con cui sei cresciuto perché gli amici che tu ti trovi quando sei all'estero e che conosci all'età di 23, 26, 30 anni ovviamente sono un po' recuperati quindi troverai sempre delle gran belle persone degli amici veri ma non sono quelli che hanno il tuo stesso background che sono cresciuti con te ecco sono forse quelle amicizie lì che più... tra le cose che più mi sono mancate e che talvolta mi hanno messo anche... non lo nego in crisi quando sto all'estero per tanto tempo mi mancano il bidet il cappuccino il gelato e l'aperitivo mi manca la pizza mi... mi mancano... mi manca in generale non tanto la cucina italiana perché comunque in Australia si mangia bene ma mi manca l'idea lo stile di vita forse dell'Italia che è molto più rilassato e... mi mancano gli amici mi manca la famiglia però... tutto sommato penso che mi trovo molto bene a Bresta può sembrare un luogo comune ma il cibo è... ciò che ci dà energia ed è quello che mi manca di più quando vado all'estero e... poi la famiglia il potermi esprimere al 200% nel mio linguaggio perché comunque parlando la tua lingua nativamente hai... i... 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 i modi di dire e tutte queste cose che in linguaggi esteri finché non hai l'eccellenza in un linguaggio sono difficili sia da esprimere che da capire e poi per come sono fatto io la famiglia e la cerchia di amici era quella che mi mancava la famiglia, gli amici, le mie vecchie tradizioni, il mio modo di vivere le serate con gli amici mi mancano le serate Dungeons & Dragons con gli amici mi manca il sole, a volte come vedete qua la giornata è un po' giosa durante i primi mesi mi mancava la famiglia, gli amici il mangiare no perché comunque in Australia alla fine c'era un po' di tutto anche i prodotti che arrivavano all'Italia quindi quello lì non è che mi è mancato tanto però molto amicizie, familiari mi sono mancati tanto poi dopo i primi mesi è passata perché comunque con Skype, messaggi, così era molto diretta la cosa quindi non c'era molto di vario e è passata un po' la nostalgia di casa e di tutto il resto e niente, ho trovato amicizie là, ho trovato là quindi poche cose mi mancavano domanda numero 6, ritorneresti in Italia o se sei già tornato ripartiresti? non so se torneremo in Italia mia moglie è romena, alle volte valutiamo l'opportunità di spostarci nuovamente potremmo tornare in Italia, potremmo andare a Cusnapo che è una bellissima città che si sta evolvendo molto rapidamente tra le considerazioni che posso fare riguardo allo spostamento da Lussemburgo verso l'Italia non nascondo che lo stato sociale lussemburghese è molto più protettivo nei confronti dei giovani genitori e quindi se dovessimo avere un figlio sarebbe sicuramente molto più facile per noi crescerlo qui che non in Italia, a dispetto delle barriere linguistiche che continuano a permanere in qualche modo, la quantità di aiuti che vengono forniti dallo Stato e le strutture di supporto che ci sono qui permettono abbastanza agevolmente di crescere un figlio senza dover avere una rete di supporto familiare estesa come quella che ho sentito che sia necessaria in Italia diciamo che è un po' difficile perché qui non sai né danese, non so qui si è un po' un cittadino borderline però io non... l'Italia... situazione socio-politica... no, non credo che tornerei anche socio-politica culturale, anche attitudine della gente magari anche legato al fatto che vengo da un paesino, quindi è chiaro la mentalità di un paesino paragonata alla mentalità di Copenaghen certo che mi piacerebbe tornare in Italia, il problema è che come per uscire dall'Italia anche per tornare bisogna pensarci bene, non è una scelta facile da prendere almeno dal punto di vista professionale in molti dei casi, e sicuramente il mio caso significa sacrificare chi è una delle cose che ho qui, vorrebbe dire crearsi un lavoro dovrei tornare con l'idea che mi devo inventare un lavoro, mi devo aprire una mia azienda andare a fare qualcosa che mi permetta di lavorare con le aziende internazionali più che pensare al mercato italiano è una delle possibilità, vogliamo decisamente avvicinarci alla mia famiglia ma il problema è che bisogna pensarci bene, l'Italia è una delle possibilità di azione la bandiera ce l'ho, se il governo ce lo permette magari le cose si migliorano anche quindi un controesdo diventerebbe più facile bello, è bello, però vi siete dimenticati di rispondere alla domanda sicuramente tornerò in Italia quando non lo so, è difficile da dire quello che so è che quando tornerò troverò, tornerò vicino alla famiglia, troverò un sacco di cose che ci mancano qua però mi mancherà sicuramente l'ambiente di lavoro l'ambiente di lavoro, la possibilità di portare avanti i progetti la possibilità di lavorare in stranità la possibilità di provare cose nuove tecnologie che da nessun'altra parte ci sono fondamentalmente non è una questione di Google, non è una questione soltanto di quello che faccio qua o dell'ambiente che è particolarmente stimolante è una questione anche di prendere decisioni basate su dati, fattori oggettivi di poter crescere professionalmente non solo in base all'anzialità ma in base ai risultati concreti, a quello che si è fatto non in base a un titolo di laurea, non in base a un voto a scuola ma letteralmente in base a quello che si sta facendo naturalmente sì, tornerò in Italia tornerò in Italia perché è un paese dove mi piace vivere dove secondo me si sta bene, dove mi piace la gente l'unico problema è che non posso lavorare lì è molto difficile che io riesca a trovare qualcosa anche lontanamente simile a quello che sto facendo adesso quantomeno non con le prospettive di lavoro e di guadagno che ci sono qua di conseguenza la vedo molto difficile la vedo molto difficile almeno per i prossimi per i prossimi parecchi anni che io riesca a rimettere piedi in Italia in termini lavorativi quindi niente, per adesso me ne rimango un po' in giro viaggio ancora un po' e cerco di sfruttare questa possibilità al meglio cioè finché non hai una famiglia che ti tiene troppo ancorato in una posizione forse è il momento giusto per sfruttare al massimo questa libertà e girarsela Sicuramente, se mi capitasse l'occasione lo farei tranquillamente proverei sicuramente di nuovo Beh, se tornerai in particolare nel mio caso vuol dire che all'estero per quanto mi sia trovato bene forse non mi sono trovato così bene da fermarmi in pianta stabile in particolare nei paesi nordici di Belgio e Inghilterra sono stato bene ma al momento non vedo una vita stabile, una vita a lungo termine là può anche essere che la mia esperienza sia stata un'esperienza e magari tornando le condizioni, la situazione potrebbe cambiare e farmi propendere per rimanere a lungo termine nei variati anni al momento non mi dispiacerebbe tornare in Italia perché comunque come dicevo prima c'è tutta la parte di radici che mi lega qua e un sacco di cose che mi piacciono dell'Italia e se per il momento questa eventualità non la vedo fattibile è perché non penso di trovare lavoro e se trovassi lavoro le condizioni sarebbero abbastanza frustranti comparate con quelle che ho vissuto all'estero dove comunque la qualità del lavoro è decisamente più alta di qua e non nego che in futuro mi piacerebbe mi piacerebbe anche iniziare un'attività personale, un'attività autonoma e ovviamente tra i posti candidati c'è anche l'Italia c'è l'Italia come la Spagna, come altri posti nel sud dell'Europa, nel Mediterraneo in particolare e si vedrà, per adesso mi sa che continuerò a viaggiare io sono dell'idea che partire per poi tornare sia la cosa migliore perché torni cambiato, sei cambiato, vedi le cose in un altro modo non ti metti più a lamentarti e basta del fatto che ah queste cose succedono solo in Italia sì tante cose succedono solo in Italia tante cose succedono più all'estero che in Italia aprire un po' gli orizzonti, aprire un po' la mente questa è la cosa importante io sono tornato con un progetto che stiamo portando avanti perché no tornare via ancora in un'altra nazione ci può stare probabilmente lo farò anche ma io ti dirò sono comunque felice della scelta che ho fatto ho fatto il video di tornare in Italia non me ne pento ecco chiaro, adesso sono qua non ho ancora capito bene dove vivo perché non ho un appartamento mio mentre a Parigi la più grande soddisfazione è che da partire dalla metà del primo anno in cui vivevo con altri sono andato a vivere da solo e mi sono costruito praticamente l'appartamento perché sono entrato che era una specie di garage e me lo sono modellato su quello che sono su me stesso, su quello che sono le mie esigenze e la mia personalità quindi me lo sono costruito sono andato, andavo solo la moto come mezzo e quindi tutto quello che acquistavo lo dovevo ragionare e riflettere che fosse a misura di o la moto o la metro il 90% dei miei mobili erano recuperati in strada ripuliti, sistemati, modificati e questa cosa un po' devo dire mi manca comunque avrei capito la mia esperienza è stata positiva al massimo a parte che già di mio io trovo positivo tutto anche quando mi ritrovo comunque a star male di certe situazioni i pro e contro per me sono comunque positivi perché io posso imparare dai miei errori e dalle momenti anche talvolta tragici che posso imparare quindi la mia esperienza è stata positiva non nascondo che ha i suoi lati negativi una città come Parigi ha tanti lati negativi vivere da solo piuttosto che essere potete immaginare qualsiasi cosa possa accadervi insomma può avere i suoi lati, i suoi risuoti negativi di momenti no ne ho passati parecchi ne ho passati parecchi no, non tornerai in Italia no, no, ho assolutamente l'intenzione di tornare ho l'intenzione di rimanere qua il più possibile sto già cercando un lavoro con Svizzera e ho l'intenzione di rimanere in Svizzera anche il mio ragazzo adesso è venuto qua in Svizzera è stata fatta già a Svizzera e contiamo di rimanere qua cercare di stabilirci qua no, no non ha senso tornare in Italia soprattutto in questo periodo penso che tornerei in Italia se potessi vivere di rendita e non lavorare in Italia forse ma sono finita all'estero perché volevo andare all'estero da quando penso da quando fossi adolescente quindi mi mancano la famiglia e gli amici ma non penso che tornerei in Italia anche se avessi la scelta poi ho conosciuto mio marito e ormai la mia vita penso che sia a Brisbane anche se poi non è stato facile provare lavoro o insomma i primi anni non sono stati facili anche per anche per la lingua che il mio inglese non era il massimo però penso che tutto sommato ora come ora anche se avessi la scelta non tornerai indietro non tornerai indietro anche perché l'Australia mi dà delle possibilità di lavoro di studio che in Italia adesso non penso che sia a livello dei pregiudizi si tornerei in Italia il problema è che in Italia dovrei anche avere una prospettiva di farmi una famiglia di poterla mantenere ho 34 anni e la classica risposta è quando vado in Italia vado a un colloquio mi dicono sei troppo giovane ah ah perché dovrei pagarti così tanto è andato cioè sinceramente spingete solo la gente ad andarsene all'estero a un certo punto tornerei si tornerei con un'offerta un contratto decente io ho continuato a cambiare contratti in tempo indeterminato qua in Germania cambierei anche se ci fosse un'offerta interessante dal punto di vista tecnico io adesso sto lavorando sulle decine di migliaia di macchine cioè sono sfide strutture che oramai purtroppo l'Italia non offre più perché non offriamo non incentiviamo le aziende non lo so non ho la risposta pronta se no sarei io Presidente del Consiglio se io intanto ci penso e dico non Berlino o qualche altro posto per il momento Berlino mi ha dato tutto e mi sta continuando a dare molto sono l'automato in Italia principalmente per comunque fare questo corso e mettermi a studiare per poi ripartire quindi la mia intenzione è comunque tornare all'estero vedere se riesco a stabilirmi all'estero permanentemente anche perché è passata la prima il primo blocco dei primi mesi che dici sono lontano da casa non so bene cosa fare è completamente un altro mondo non impari veramente a vivere per i cavoli tuoi proprio da solo perché comunque io posso partire da solo quindi non ho nessuno e rompi le catene del tuo paese cioè non sei più vincolato a un paese sei proprio sei proprio puoi vivere in qualsiasi parte del mondo dopo che sei passato dopo che sei passato i primi mesi quindi sì la mia risposta è voler tornare all'estero e probabilmente rimanerci domanda numero 7 hai da fare proclami alla nazione? alla nazione che preferisci si intende posso dire che appena arrivato qui ho avuto subito un insegnamento prezioso forse non è tanto legato al fatto di essermi sposato in Lussemburgo avrei dovuto averlo anche in Italia dipende dal dal luogo in cui in cui lavoro che è un luogo veramente internazionale vi dico solamente che nel mio team siamo 10 persone e ci sono 8 nazionalità differenti e quindi questa azienda pesca da un pool di talenti mondiale quando deve riempire una una posizione questo significa che il confronto che ho ogni giorno con i miei colleghi è un confronto con persone che sono generalmente molto preparate e molto talentuose sono partito dall'Italia pensando di essere estremamente preparato e anche con un buon istinto e arrivato qui ho scoperto di poter essere nella media quando mi confronto con questo genere di colleghi si tra l'altro ho appena comprato casa sono nel mio appartamento da baraccata mi sono appena trasferita quindi non ho neanche né un tavolo né una sedia né niente quindi chiedo scusa per le riprese ma così è forse questo è il mio proclamo alla nazione scusate per la qualità della ripresa ma questo è quello che posso offrire al momento ma direi che l'unico suggerimento posso dare che in qualche modo derivato dalla mia esperienza qui è che noi italiani dobbiamo pensare un po' più in grande quando un'azienda una startup apre qua in America è sempre pensata a un mercato globale se un'azienda fa una cosa nuova è sempre pensata andiamo a rivoluzionare questo settore andiamo a cambiare il mondo anche nelle piccole cose noi italiani dobbiamo cercare di essere un po' più pronti a entrare nel mercato globale non dobbiamo pensare che siamo voglio dire una nazione di seconda classe bisogna semplicemente lavorare sodo focalizzarsi e cercare insomma di trovare il nostro spazio all'interno del mercato vedo un sacco di opportunità per l'Italia in momenti di crisi proprio quando secondo me le opportunità sono possibili bisogna rischiare come sempre e questa cosa vale per chi in America per chi è in Europa o per chi è in Italia in generale la fortuna aiuta le menti preparate non avevo un piano preciso di trasferirmi sono andato un po' con il flow e non me ne sono mai pentiti aspettate da parte mia è lo stesso e provate una esperienza all'estero dai che ci sta su forza tanto potete sempre tornare non è che più sempre esperienza all'estero allora ci sono due cose che vorrei dire alle persone che guarderanno questo video uno viaggiate esplorate andate da qualche parte stateci per qualche mese non accontentatevi dalle due settimane di ferie non bastano cercate un posto dove vivere cercate un amico come andare qualsiasi cosa però provate a farlo il mondo è pieno di opportunità opportunità fantastiche pieno di cose che non conoscete pieno di cose da imparare non soltanto credo che sia utile per la vostra umanità provate qualche volta a trovarvi in un posto non essere in grado di esprimervi o parlare con la persona che vi sta accanto o dover scoprire dove fare gli esami del sangue o dove come rinnovare la patente o serve per voi serve per interagire meglio con le persone che vi stanno accanto però serve anche per per farvi vedere delle soluzioni diverse a dei problemi che avete anche voi per esempio non lo so come fanno in California come si fa in California a fare una patente di guida senza dover andare in posto a pagare un bollettino postale o come si fa a a fare un esame del sangue per esempio senza dover andare in ospedale lezioni fantastiche lezioni che potete sia imparare che insegnare perché ci sono un sacco di cose che noi in Italia facciamo che abbiamo imparato che possiamo insegnare alle persone che ci stanno intorno la seconda cosa che vi vorrei dire e forse la più importante è che ho imparato dai miei colleghi ho imparato dai miei amici ho imparato dalla gente che ho conosciuto è che quando le cose vanno male bisogna per fare in modo che vadano meglio non bisogna aspettare non bisogna stare a guardare bisogna fare qualcosa se se non si fa niente non migliorano non c'è nulla da fare e spesso per farle migliorare non serve tanto siete in posta e l'omino dell'ufficio postale si mette a chiacchierare con un'altra cliente invece di servire voi che siete in coda provate a chiamarlo provate a dirglielo ehi perché non stai servendo i vostri clienti perché non stai facendo il tuo lavoro o provate a chiamare a chiedere al suo responsabile al suo lavoro alla fine stare a guardare cosa stanno a fare e tante piccole cose queste le ho viste spesso in ambito lavorativo anche la stampante non è in chiostro cosa si fa? si chiama l'omino della stampante per telefono non si aspetta che qualcun altro o qualcuno dei colleghi vada a chiamarlo finiscono le penne chi è il responsabile di comprare le penne? tante cose di questo tipo dunque no non ho nessuno specifico proclame da fare alla nazione magari ecco si aprite dei posti da ricercatore tre posti da ricercatore due posti da ricercatore piccoli poco pagati sottopagati però almeno uno ha la possibilità di pensare di tornare a casa no? dotami alla nazione non ne ho da fare vorrei cogliere l'occasione per dire a chi ascolta se sei interessato o hai idee a livello di progetti sull'open hardware quant'altro puoi contattarmi l'idea sarebbe quella di formare un gruppo e cercare di tirare fuori qualcosa di interessante su skype io sono xevi star e mi si può cercare come xevi star anche su facebook o comunque Renato Gallo sono quello con la maschera antigas una foto che ho fatto mentre stavo stampando una tcb allora di proclami alla nazione non ne ho e anche se ne avessi dubito che qualcuno mi starebbe ad ascoltare diciamo che l'altro giorno mi è capitato di di fare una riflessione dopo aver guardato un bellissimo cortometraggio che come incipit aveva una vecchia registrazione di un discorso di Pertini in questo discorso Pertini dichiarava che la dignità dell'uomo è la dignità del lavoratore e lo stato sociale dovrebbe promuovere la dignità del lavoratore e favorirla e sostanzialmente la mia riflessione era che era sul sul calibro di questa affermazione sul calibro di queste dichiarazioni e sulla statura dei politici da allora e di dei politici che ci ritroviamo oggi e non regge il confronto non regge assolutamente quello che abbiamo adesso a rappresentarci in Italia è una porcata assoluta senza confini e questo ci sta trascinando a un a una nazione di di secondo livello dove cosa ancora più drammatica le condizioni sociali per una vita dignitosa non ci sono ragazzi andate 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 poi tornate cioè andate per aprire gli orizzonti perché se state sul divano a dire ah queste cose succedono solo in Italia ah che schifo quello ah che schifo questo ma non siete disposti a vedere che cosa accade o ve ne state zitti oppure prendete la vostra valigetta e dato che si può fare e ve lo assicuro si può fare non bisogna né essere ricchi né essere atletici né essere paracolati io sono partito sapevo bonjour bonsoir gran sorrisi eh tutto sommato pensiamo di essere gli ultimi della classe ma non è affatto così mmm partite andate anche delle piccole esperienze di veramente di pochi anni sono stato 40 anni all'estero eh cercate comunque di vedere che cosa c'è altrove e è tornato non si può fare non si può fare nessuno vi dice niente beh nessuno mi ha detto sei un fallito perché sei tornato non stava scritto da nessuna parte che dovevo andare per risolvere i problemi del mondo all'estero sono andato ho fatto la mia esperienza adesso forte nel mio bagaglio culturale della mia esperienza della mia lingua che tutto sommato so benino devo dire e la cosa mi soddisfa e sono contento di quello che che sono stati il raggiungimento degli obiettivi che mi ero prefissato quindi io lo auguro a tutti e e quindi ragazzi se volete un consiglio andate e poi allora quando le autostrade sono a tre corsie è perché bisogna tenere quella di destra sempre non bisogna parcheggiarne a più fila bisogna fare le code quando ci sono non cercare di passarle all'italiana insomma essere un pochino meno italiani in queste cose ogni nazione ha i suoi pro e i suoi contro e alla fine non tutto sommato quando sono quando sono in Italia mi manca l'Australia quando sono in Australia ogni tanto mi manca l'Italia o l'Europa in generale e però penso che la la cultura e il patrimonio storico e artistico che c'è in Italia non non si trova facilmente in nessun altro paese al mondo e d'altra parte però la il come la vivibilità delle città delle città in Australia è molto più è molto più alta non penso che non potrei mai non potrei non ho mai pensato di riuscire a sopportare la vita in una città italiana mentre mi trovo una delle più grandi città dell'Australia e mi trovo molto bene per cui sì è molto più a misura di persona andare a fare un bloccano alla nazione italiana dicendo a quelli che stanno lottando per diciamo portarsi avanti se siete onesti siate onesti siate onesti perché l'onestà e il karma pagano siate onesti perché abbiamo visto che cosa ha portato la disonestà dalla formazione dell'Unità d'Italia fino ad ora siete onesti tenete duro non ho programmi per la nazione ragazzi incrociando le dita perché ho ancora familiari e persone a cui voglio bene in Italia speriamo che le cose migliorino io ho già provato quando ero lì ho fallito a un certo punto ho detto ok devo un po' pensare anche a me e ho deciso di un futuro da un'altra parte ma se è d'Italia vabbè sapete tutti com'è d'Italia quindi proclami grossi cioè svegliatevi per l'Australia invece magari essendo una colonia inglese ex colonia inglese sono molto rigidi magari qualcosina in meno attenuarsi magari su alcune cavolate sono troppo ferre a volte sono più pazze però dopo che imparì a conoscerli ci sta riesce a girarle anche loro domanda numero 8 che in realtà non è una domanda vai con i saluti finali grazie e ciao 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 io e Leon vi salutiamo ciao a tutti e mi raccomando bocca al lupo a tutti quanti ciao mondo ciao in ogni modo a presto ciao a tutti ciao Al e mi raccomando riesci a togliere la parte del controllo del medio umano perché non vogliono che se ne parli grazie non dirò ciao mondo perché poi sembra che copio Al anche perché sarebbe copiare Al ciao ragazzi allora saluto tutti quanti saluto Aladino e lo ringrazio di avermi incluso in questa sua iniziativa saluto gli amici del baretto saluto gli amici degli effetti speciali e se aspettate ancora un po' vi manderò un saluto anche dall'Australia ciao ciao figurati Al grazie a te e grazie a tutti per avermi ascoltato ciao ragazzi ciao 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 ma visto che adesso sono in Italia ne approfitto per salutare mio marito in Australia e e tutti quanti i saluti finali e saluto tutti tutti quelli che mi conoscono nel male e nel bene saluto ciao ciao un saluto a tutti grazie a Aladino per l'offerta per l'idea e speriamo che venga vista da un po' di persone insomma un abbraccio enorme boh voglio salutare tutti ci vediamo magari in qualche parte del mondo ciao ciao a tutti e grazie mille per aver partecipato a questo video qualcuno ha parlato poco qualcuno ha parlato tanto per alcuni di voi ho dovuto un po' tagliare le risposte Giacomo hai parlato tantissimo spero comunque di aver mantenuto tutte le cose importanti che avevate da dire ovviamente quello che avete visto non vuole essere uno studio dettagliato e approfondito sul fenomeno della fuga dei cervelli questa è soltanto la mia personale esperienza anzi nemmeno è l'esperienza dei miei amici gran parte dei quali lavorano nell'ambito IT e credo tutti provengono dal nord Italia quindi non pretendo che sia una trattazione completa ed esaustiva anzi se volete porre queste stesse domande ai vostri amici che hanno avuto esperienze di lavoro all'estero fate pure possiamo confrontare le risposte vedere un po' le differenze e non siete nemmeno costretti a rovesciarvi addosso un secchio d'acqua ghiacciata ringrazio nuovamente tutti quelli che si sono prestati per questo video scusate se vi ho fatto aspettare ma ragazzi siete impegnatissimi vi ho dovuto rincorrere per mesi chiedo scusa a tutti quelli che non ho contattato probabilmente non ero a conoscenza delle vostre esperienze all'estero anzi no sicuramente vi ho contattato ma la mail deve essere finita nei filtri anti spam provate a guardare nella cartella della post indesiderata oppure semplicemente non siamo così amici come credete e ringrazio anche tutti quelli che ho contattato ma che per un motivo o per l'altro non hanno potuto contribuire anche se avrebbero voluto ma forse questo è perché in realtà non siamo così amici come io credo se vuoi sapere una delle cose più comiche che mi sono successe in Francia è stato il giorno in cui ho detto ho dichiarato ragazzi ho preso la mia decisione me ne torno in Italia era il feste di compleanno di un'amica e sono entrato in questo ristorante salutando appunto i miei amici dicendo ragazzi ho preso la decisione ho deciso che che me ne vado che torno in Italia in fondo al tavolo c'era una ragazza e quando ho finito di dire questa frase mi giro la vedo e dico no ho trovato la donna della mia vita e ero sicuro fosse lei cioè al 100% alla fine della serata dato che eravamo all'estremità tutte e due del tavolo e lei mi dice e dov'è che vai a vivere? e dico Milano e lei mi guarda e mi dice ah io abito da tre settimane a Milano lei parigina cioè francese ha vissuto anche lei a Parigi lo stesso periodo in cui ho vissuto a Parigi e non ci siamo mai conosciuti prima e adesso la mia fidanzata